iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Andiamo il tampone, sigillato, senza toccarlo neanche nella superficie, lo passiamo sulla frutta, in questo senso, come se fosse un naso, 5-6 volte di rotazione, lo immergiamo profondamente nella provetta, facciamo rodare 5-6 volte, lo tiriamo fuori, in questa maniera, chiudiamo la provetta, agitiamo, aspettiamo circa un minuto e nel frattempo prepariamo la striscia. La striscia secondo me sa, potevano pippare, guarda qui che roba. Questa è la striscia dei test, che è scritto sopra il covid-2, SARS-CoV-2, dove in un minuto metteremo... Posso dirlo? Posso dirlo? Mei coglioni! Il test viene incollato su una etichetta, dove noi scriveremo test numero uno, kiwi, ormai è passato il minuto dalla reagente, mi raccomando, attendibilità dei tamponi, mi raccomando, mettiamo tre gocce, stiamo alla frutta nel vero senso della parola, se potete venire, questo è il kiwi, positivo, il kiwi è venuto positivo, si, il kiwi è venuto positivo, si vede molto bene la seconda striscia, facciamo vedere bene il kiwi, la prima lettura è venuto positivo.